Benvenuti, anzi bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Ora, come ci si potrebbe aspettare, stiamo proseguendo la narrazione dei pianeti del Sistema Solare, allontanandoci sempre di più, e dopo Venere arriva un pianeta che forse conoscete, forse avete passato un po' di tempo, l'avete visto molto spesso in foto. Si tratta del pianeta Terra. Ah, sì, ho fatto una battuta molto simpatica, e quindi per zittirmi immediatamente facciamo partire la sigla e cominciamo. Il terzo pianeta per distanza dal Sole si chiama Terra, quello su cui noi abitiamo, ed è il più grande pianeta roccioso e il solo corpo celeste che per ora noi sappiamo ospitare vita. Possiede acqua allo stato liquido in abbondanza e la superficie è in costante cambiamento. Basti pensare alle superfici che sono ricoperte da foreste, a quelle ricoperte da deserti, c'è una crosta in continuo cambiamento. I cambiamenti climatici, i temporali, i cataclismi, anche soltanto come può essere un'eruzione di un vulcano, portano a dei cambiamenti che comunque rendono la superficie in continuo mutamento, non è fissa. A differenza invece di altri pianeti come possono essere ad esempio Mercurio, su cui noi possiamo osservare ancora la superficie di diversi miliardi di anni fa. Questo pianetino blu potremmo effettuare una trattazione di diverse ore, in particolare parlando di una determinata specie che ha cominciato a guardare le stelle, a cercare di capire attraverso delle leggi matematiche come queste si muovono sulla volta celeste, creando poi una scienza dedicata a capire come funzionino i meccanismi degli astri, come questi si muovono sulla volta celeste, cosa componga questi astri, sono diversi dal nostro pianeta, sono simili, possono ospitare la vita, c'è dell'altra vita al di fuori, permettendo poi attraverso questa scienza a un ragazzo, ora di parlare attraverso un microfono e cercare di intrattenere un pubblico quasi inesistente su determinati astri e movimenti e leggi fisiche dietro, tutta questa marea di informazioni è una specie, diciamo, particolare, per dargli un pontono, possiamo dire, questa specie, quindi sì, ci siamo sviluppati, abbiamo fatto delle cose, comunque siamo un po' strani rispetto alle altre specie animali che compongono la Terra, che abitano questo pianeta. Comunque, invece, attenendoci direttamente soltanto al pianeta, si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa, e da allora fino ad oggi i materiali che lo compongono si sono caratterizzati astrati, ovvero il pianeta è formato da un nucleo centrale solido di ferro e nickel, attorno al quale invece si sviluppa un nucleo però liquido di ferro e nickel, sempre in movimento, sopra di esso, ancora, allontanandoci sempre di più dal nucleo, quindi andando verso l'esterno, si trova la parte più spessa del pianeta, ovvero un mantello di roccia calda e di magma, sormontato da una crosta sottile, che corrisponde a circa 30 chilometri, ed è la zona su cui noi abitiamo. Oltre a questo, poi, si sviluppa l'atmosfera per circa 500 chilometri. La parte più spessa della crosta, invece, ci risulta essere circa il 30%, ovvero la parte su cui noi comunque riusciamo a posare i piedi e ci siamo sviluppati in questi migliaia di anni. Mentre la restante 70% è la parte meno spessa della crosta e corrisponde alla parte ricoperta dalle oceani, che si sono andati a posare, diciamo, l'acqua si è sviluppata nella parte di crosta meno spessa rispetto alla parte emersa. Mentre il 2% è completamente ricoperto, quasi completamente ricoperto, da chi ha ci. Risulta essere quindi la parte minore. Ma ora passiamo un po' alle cose un attimino che vi possono interessare di più, ovvero un po' di numeri, cominciamo a buttare un po' di dati su questo pianeta. Ovvero, seguendo l'elenco che stiamo svolgendo sui pianeti di sistema solare, possiamo immaginare come il suo moto di rivoluzione e di rotazione che possiede anche questo pianeta sia aumentato, perché ci stiamo allontanando dal Sole, quindi il moto di rivoluzione rispetto al Sole è aumentato data la distanza. A differenza, infatti, di Mercurio e di Venere, noi ci impieghiamo circa 365 giorni. Per quello che riguarda, invece, la sua velocità orbitale, ovvero la velocità che impiega a fare un giro su se stesso, è di circa 30 km al secondo, oppure, per darvi un'idea migliore, di circa 108.000 km all'ora. Quindi sì, ci stiamo muovendo abbastanza velocemente, anche se noi non ci accorgiamo di questo movimento perché siamo legati alla Terra. È lo stesso principio, che in fisica viene chiamato come sistema di riferimento, che, ad esempio, voi potete osservare su un treno oppure sulla macchina. Quando voi vi state muovendo in macchina, state guidando, siete fissi, siete seduti nel vostro posto, però la macchina si sta muovendo rispetto alla Terra. Quindi, però, dalla vostra prospettiva, sembra che gli altri si stiano muovendo, cioè che la Terra stia scorrendo sotto di voi mentre voi siete fermi. Stesso principio con la Terra. A noi sembra di essere fermi, in realtà la Terra si sta muovendo a una velocità impressionante per quelli che sono i nostri canoni. E questo perché noi consideriamo come sistema di riferimento la Terra e non il Sole, se no saremo in costante movimento noi. La Terra, invece, ruota da ovest a est, ricordiamoci la differenza rispetto a Venere, che invece ruota in senso retrogrado, quindi da est a ovest, in circa 23 ore e 56 minuti e 4,091 secondi. Sì, visto che precisione? Intorno all'asse che unisce polo norte e polo sud terrestre, che differisce, invece, da quello geografico, poiché è lievemente inclinato di circa 11,30 gradi rispetto all'asse di rotazione terrestre. Quindi, comunque, si osserva una determinata inclinazione della Terra rispetto al, possiamo dire, al polo nord e sud geografico. Quindi non è perfettamente perpendicolare al movimento di rivoluzione intorno al Sole. È un pochino inclinata. Per questo moto di rotazione, quindi, attorno al proprio asse, ogni giorno noi vediamo il Sole sorgere a oriente e tramontare a ponente. Potete fare caso che non ho detto a est e a ovest. Questo perché, in realtà, il Sole, dal nostro punto di vista, tramonta esattamente a est e a ovest è solo in due occasioni all'anno, ovvero in corrispondenza degli equinozi. Se questa cosa vi interessa particolarmente, vi invito a venirci a trovare al planetario di Modena, dove, grazie a nostra bellissima cupola con proiettore planetario, potremo spiegarvi anche del perché il Sole non sorce a est, oppure a che cosa corrispondono gli equinozi, a che cosa corrispondono i solstizi. Molte curiosità sui nomi, sulla mitologia delle varie costellazioni, però, 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 sì, so di stare divagando. Quindi, finita questa bellissima marchettata, che comunque io mi invito a venirci a trovare al planetario, torniamo a noi. La Terra ruota intorno al Sole a una distanza di circa 150 milioni di chilometri. E visto che tutti gli astronomi che conosciamo vivono su questo pianeta, si è deciso di creare un'unità di misura agevole per le distanze tra pianeti all'interno del Sistema Solare, ovvero l'unità astronomica. Si è deciso, infatti, che scrivere 150 milioni di chilometri è una perdita di tempo, soprattutto se tutti i pianeti, tutte le stelle, si trovano sempre a distanze maggiori. Quindi, per gli astronomi, perché gli deve fare i calcoli, invece che scrivere 150 chilometri o metri andando ad aggiungere ancora più zeri, si è deciso di creare una nuova unità di misura che possa essere molto più agevole, quindi possa andare a essere usata invece che queste unità di misura. Quindi, ora si utilizza l'unità astronomica, ovvero la distanza tra Terra e Sole corrisponde a un'unità, a uno. Mentre tutti gli altri pianeti si muovono come multipli o sottomultipli o frazioni di quest'unità. Ad esempio, Mercurio sta a 0,39 UA, quindi unità astronomiche, e Venere è a circa 0,72 UA. In realtà, questa non è una propria, una vera e propria unità di misura. Infatti, non rientra nel sistema internazionale. Però, diciamo che quest'ultimo la tollera, visto che comunque possiamo avere pietà degli astronomi, quindi viene tollerata. Anche se, pur in astronomia, non è così tanto utilizzata, almeno per l'astronomia che riguarda soprattutto l'astronomia stellare o chi va a studiare le galassie, si preferisce infatti utilizzare i Parsec o i Megaparsec, che però sono unità di misura un pochino più complesse che tratteremo più avanti. Quindi vi chiedo di aspettare e in un'altra puntata invece parleremo di Parsec, Megaparsec, Kiloparsec e le varie distanze astronomiche preferite dai nostri astronomi astrofisici. Per ritornare invece alla descrizione della Terra, sebbene la vita sul nostro pianeta, almeno per noi, dipenda dall'ossigeno, questo compone l'atmosfera soltanto per circa il 21%, ovvero una parte abbastanza minore rispetto al totale della composizione dell'atmosfera, che infatti è composto per il 78% da azoto, quindi la maggior parte corrisponde ad azoto. E la rimanente parte invece di altri gas, come ad esempio l'anedito carbonica, il neon, l'elio, il metano e kripton. Kripton non è la kriptonite, non è il minerale che può uccidere Superman, non è il minerale che va a indebolire Superman. Però, per avere una visione più completa, prendiamo ad esempio un vasetto, in cui ci sono dieci palline. Di queste dieci palline, circa sette, in realtà sono quasi otto, però, per avere una composizione più visiva, sette palline sono di un colore e sono quelli di azoto. Due palline costituiscono l'ossigeno, mentre l'ultima parte, di un colore, possiamo dire, tipo arcobaleno, è un miscuglio di vari gas che corrispondono alla restante parte della nostra atmosfera. L'atmosfera raggiunge circa i 500 km di altitudine, ma la maggior parte di essa si concentra entro i primi 16 km, che infatti noi riusciamo a respirare a livello del mare, arrivando anche a 4000 metri, cominciamo già a sentire che l'aria risulta essere più rarefatta e a 8000 metri, se non si è allenati, risulta quasi impossibile riuscire a respirare, mentre, appunto, chi fa alpinismo, chi va a scalare le montagne più alte, anche a 8000 metri riesce a respirare. Però, la parte più densa, la parte in cui noi ci siamo abituati a sopravvivere sta nei primi 16 km e corrisponde alla parte più densa della nostra atmosfera. Nella prima parte, infatti, si concentrano anche i fenomeni meteorologici, tra cui i temporali, i cicloni e i venti che riscaldano o raffreddano il nostro pianeta, come ad esempio un vento che riscalda dall'America del Sud verso l'Australia per portare inondazioni o anche a forti siccità, che corrisponde a un forte riscaldamento della parte dell'Oceano Pacifico Meridionale, quella corrispondente appunto all'emisfero australe. Il Sole, infatti, riscalda la Terra in modo non uniforme, producendo dei dislivelli di pressione atmosferica. Per compensarli, quindi, si sviluppano correnti d'aria, quelle che noi banalmente chiamiamo venti, il classico venticello oppure il vento molto intenso che può portare anche a venti periodici oppure alla Bora, come si osserva a Trieste, cerca di compensare, si creano quindi queste correnti d'aria che provvedono a distribuire l'umidità sul pianeta e per questo si possono individuare le correnti più calde e secche oppure quelle più fredde e umide. La Terra, inoltre, risulta il pianeta più studiato di tutto il Sistema Solare, strano ma vero, anche perché per mettere in orbita intorno al nostro pianeta un satellite ci si impiega molto meno rispetto a mettere diversi anni a diverse tecnologie a diversi milioni di dollari per riuscire a creare una missione spaziale che riesca ad arrivare su un altro pianeta oppure anche come è successo per la missione Rosetta a riuscire ad atterrare su una cometa mentre questa si sta muovendo mentre sul nostro pianeta è molto più semplice bisogna tra virgolette soltanto riuscire a vincere la forza gravitazionale e portare in orbita un oggetto che può orbitare a diverse altezze poi è anche molto semplice da osservare il nostro pianeta ad esempio bastate che ora voi mentre state camminando mentre vi state muovendo guardate verso il basso quindi molto semplicemente quello è il nostro pianeta ok no tutto bello però se dovessimo parlare di ogni argomento riguardante la Terra possiamo direttamente prendere un libro di qualsiasi tipo cominciare a illercare argomenti i quali botanica geologia antropologia filosofia scienze qualsiasi tipo di scienza e parleremo comunque di un qualcosa inerente alla Terra la cosa interessante invece che riguarda questo particolare pianeta rispetto agli altri è che qui c'è la vita ok immagino di avervi sorpreso in una quantità inimmaginabile ok ma perché qui c'è la vita in realtà questa è una questione molto semplice ovvero noi siamo né troppo lontani né troppo vicini al Sole quindi riusciamo a dispersere abbastanza calore che ci arriva dal Sole e dall'altro lato riusciamo invece a trattenere una quantità necessaria affinché non ci sia troppo freddo sul nostro pianeta gli astronomi giusto per essere sempre una quella categoria di persone che vogliono essere particolarmente poetici o particolarmente strani si sono riferiti per descrivere la nostra situazione a una favola avete presente la favola di Riccioli d'oro quella in cui la bambina entra in una casetta di orsi quando lo sono fuori prima mangia diverse zuppe e una risulta troppo calda una troppo fredda una invece è della temperatura ideale poi si mette a dormire e c'è un letto troppo grande uno troppo piccolo e uno invece della giusta dimensione ecco gli astrofisici hanno avuto la brillante idea di nominare i pianeti che si trovano a una distanza che permette la presenza di acqua liquida sulla superficie come pianeta appunto nella fascia Riccioli d'oro ovvero dove le temperature non sono né troppo alte né troppo basse e sul pianeta almeno in teoria può esistere la vita in realtà ci vogliono diverse altre caratteristiche come ad esempio un campo magnetico che possa proteggere il pianeta dalla radiazione del vento solare oppure deve avere delle determinate dimensioni qui è un'attività geologica che permetta appunto al pianeta di sopravvivere e di concedere la vita a diverse specie animali poi inoltre bisogna valutare le stelle attorno a cui i pianeti orbitano che devono permettere una crescita della vita e le stelle come il sole sono le più grandi date perché hanno un'evoluzione tra virgolette abbastanza lenta il nostro sole infatti ci metterà circa 10 miliardi di anni per arrivare al termine della propria vita adesso siamo circa a metà quindi 4,5 miliardi di anni in realtà non proprio come il sole infatti alcuni studiosi sostengono che le stelle di tipo nane arancioni sono la giusta via di mezzo con le proprietà intermedi tra le stelle di tipo solare che sono infatti più rare rispetto a quelle di alle nane arancioni le stelle come il sole in realtà anche se noi ci siamo abituati a pensare che siano tutte come il sole sono abbastanza rare mentre delle stelle lievemente più piccole con un colore un po' più arancione sono comunque delle stelle che possono permettere la vita su un altro pianeta e di conseguenza cercando delle stelle con queste caratteristiche quindi un colore lievemente più scuro un po' tenendo all'arancione e delle dimensioni minori se ne sono trovate in maggior quantità osservando il cielo di conseguenza cercando attorno a queste stelle si ha comunque la probabilità di andare a osservare un pianeta che ospita una vita detto prima abbiamo la fortuna di avere anche oltre che essere alla giusta distanza dal sole abbiamo anche un campo magnetico ovvero il nostro nucleo di metallo fuso che ruotando genera delle linee di campo magnetico attraverso quelle che sono le leggi dell'elettromagnetismo crea un campo magnetico che ci permette ci protegge fa come da scudo al nostro pianeta interagendo con il vento solare e permettendo deviando le particelle più cariche che arrivano dal vento solare evitando quindi che noi direttamente veniamo colpiti dalle radiazioni più intense che produrrebbero direttamente la morte del nostro corpo noi infatti non riusciamo a resistere a delle radiazioni x o delle radiazioni gamma che sono le radiazioni più energetiche che arrivano dal sole mentre per radiazioni nello spettro visibile o ultravioletto ancora riusciamo a sopportarle anche se ad esempio una forte esposizione all'ultravioletto ci può causare dei danni alla pelle mentre così facendo il campo magnetico ci permette di difenderci tra virgolette ci difende da quello che sono le azioni del vento solare la parte per darvi un'idea questo campo magnetico non è un campo non è uno scudo fisso davanti alla terra in realtà subisce molto la pressione del vento solare quindi da una parte quella esposta al sole è molto vicino alla terra mentre dall'altra parte si estende per diversi chilometri circa 250.000 chilometri di distanza e fa come se fosse un palloncino schiacciato molto da una parte mentre dietro si estende per diversi chilometri assumendo una forma quasi da uovo tale differenza sta proprio nel vento solare quindi nella pressione di radiazione che comporta questo vento e che va a schiacciare il campo magnetico vicino alla terra nella parte in cui è esposto e invece lo lascia tra virgolette libero nella parte dietro e anche se sembra uno scudo così lontano da noi perché comunque anche la parte più vicina è a circa 60.000 chilometri ci sono due zone che invece si avvicinano ancora di più e arrivano direttamente a toccare quasi la terra ovvero le linee di campo hanno bisogno di chiudersi in un certo punto e si chiudono in corrispondenza dei poli magnetici del pianeta dove si chiudono le linee di campo magnetico si osserva che interagiscono con il vento solare creando un fenomeno che ci lascia stupefatti che da diversi centinaia di migliaia di anni l'uomo continua a osservare prima senza sapere di che cosa si trattasse mentre adesso riusciamo a sapere che cosa stiamo osservando e queste sono proprio le aurore boreali che noi osserviamo essere di colore rosso, verde o azzurro e sono le linee di campo magnetico che interagiscono con il vento solare producendo questa radiazione luminosa che noi possiamo osservare di questi diversi colori sono visibili appunto alle latitudini più elevati cioè vicino ai poli appunto perché è in queste zone dove le linee di campo magnetico si vanno a chiudere e sono anche le zone più vicine alla terra visto come la pressione solare arriva a interagire con le linee di campo magnetico bene e con questo io ho terminato questa piccola lezioncina mettiamola sulla terra spero anche oggi di non avervi annoiato e nel frattempo noi ci vediamo alla prossima settimana con invece Marte il quarto pianeta del sistema solare effettivamente anche adesso dovrei mettere una sonificazione però mi rendo conto che stiamo parlando della terra e non è così semplice anche perché sonificazione si fa sugli altri pianeti e sono tutte radiazioni di pianeti tra virgolette morti però adesso vedo di inventarmi qualcosa e quindi anche oggi lascio la parola alla terra e noi ci vediamo la settimana prossima grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti